Due violente esplosioni e un incendio spettacolare ma nessuna vittima nell'incidente è avvenuto durante la notte nel complesso petrolchimico Shell di Moer, Vichy, in Olanda, a 40 km circa da Rotterdam. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, le squadre dei vigi del fuoco hanno controllato le fiamme in un'ora circa.